Sono circa 38.590 i contratti programmati dalle imprese piemontesi per gennaio 2024, valore che sale a 95.940 se si considera l'intero trimestre gennaio-marzo 2024. Il trend appare positivo sia a livello mensile, più 1.250 entrate rispetto a gennaio 2023, per una variazione tendenziale del più 3,3%. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.